La professoressa Calzone cura il corteo storico Ceva Grimaldi, che è una componente fissa della festa dell'uva, della sfilata dei carri. Professoressa, ci vuole descrivere la festa di quest'anno, come viene composta con il corteo storico che precede la sfilata dei carri. Quelle che sono le decisioni finali sulla sfilata che avverrà l'8 settembre. Sì, però ancora non è stato deciso tutto il coordinamento, ancora presto. Posso solamente dire che come l'anno scorso il corteo storico comprenderà i confratelli della Dolorata, della cofraternità dei Sette Dolori, il carro della Dolorata, i popolani e poi i personaggi del periodo ducale che rappresenta appunto il momento storico più significativo.